Ora vedremo come realizzare l'ombra propria e l'ombra portata di un cubo con la sorgente luminosa davanti all'osservatore. Dopo aver realizzato il cubo in prospettiva, mettiamo in evidenza le facce in ombra. In seguito, selezioniamo una fonte di luce indicandola con S e la sua proiezione sulla linea dell'orizzonte con S'. Con un altro colore procediamo nella realizzazione delle ombre. Tracciamo una linea che da S' passi per B ed una che da S passi per B' e aiutiamoci con lo strumento raccorda per farle convergere in B1, trovando così la prima ombra portata sul piano. Ripetiamo dunque l'operazione con i segmenti A' e D'. Infine, uniamo i punti che definiscono l'ombra ed evidenziamola. Grazie. 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 Grazie.